Sindaco, finalmente a Lorociuffena si torna a parlare di calcio. Finalmente sì, è stata veramente una sorpresa per me quest'anno riuscire così poco tempo a dare alla Lorese questa opportunità. Devo ringraziare il Presidente Leonardo che ci ha cercato subito, ci ha prospettato un'opportunità importante. Noi siamo stati subito pronti ad accoglierla, gli abbiamo dato il supporto, ma veramente il grosso della farina e del loro sacco. Quindi devo solo ringraziare Leonardo e anzi gli passo la parola per dire due cose su questo progetto molto interessante. Bene, questo progetto è nato innanzitutto, come dicevo, la presentazione per rimettere in gioco ragazzi. Poi quando si è presentato questa occasione di riportare il calcio a Loro dopo diversi anni, ho contattato il Sindaco Rossi e con la sua giunta abbiamo gettato le basi per ricostruire la Lorese. Abbiamo creato un gruppo in circa un mese e mezzo, avvalendomi di stretti collaboratori, fra cui Renato e Tommaso Amariti, stasera purtroppo non è con noi. Siamo consapevoli di avere un gruppo giovane valido per effettuare questo campionato e poi vedremo strada facendo i risultati. I obiettivi, come si dice, quando si parte si lascia parlare il campo, però noi faremo il meglio possibile. Daremo tutto in tutti i campi e vediamo che si tira fuori, insomma, dai, l'impegno mancherà sicuramente. Con tutti i ragazzi l'ho già conosciuto un po', si è iniziato già da qualche settimana e dai, speriamo di divertirsi e fare un bel lavoro. Mi hanno presentato poi il progetto, non è solamente la prima squadra di futuro, ma sarà anche a livello, penso, di un domani di settore giovanile. Questa è una cosa che a me mi è sempre piaciuta. Noi, ripeto, ci si metterà tutta per dare il nostro piccolo contributo a questa società. Poi i risultati, si spera, vengono. L'essenziale è serietà, rispetto e spirito di sacrificio. Queste sono le cose essenziali.